cari amiche e cari amici riprendiamo con la lettura di brani scelti di nisargadatta maragi tu credi che le tue dei ti appartengano ma questo non è vero esse sono comuni a tutta quanta l'umanità non fanno altro che attraversare la tua coscienza quelli che tu pensi essere le tue idee non ti appartengono più di quanto ti appartenga il nome che ti è stato dato tu non agisci l'azione si muove nella tua coscienza e la tua coscienza soltanto è te è l'azione che agisce ma tu non fai nulla tu osservi semplicemente l'azione nella coscienza questo movimento che si produce nella coscienza essa è come la penombra come la luce della luna all'alba la coscienza è semplicemente conscia della propria esistenza ma non ha alcun nome è spazio spazio vuoto tutto ha inizio dallo spazio dallo spazio affiorano le cause e gli effetti e affiorano in seguito a un gioco di reazioni e azioni reciproche così si arriva alla creazione del mondo a cui sono legate tutte le forme che si manifestano essendo ciascuna forma una particolare espressione della coscienza ma tutta la manifestazione del momento della comparsa dello spazio fino a tutto l'insieme del cosmo non è altro che il non manifesto che prende coscienza di se stesso questo avviene quando tu semplicemente sei questo avviene quando sei cosciente di te stesso senza alcun bisogno di descrivere a parole o con i pensieri di questo stato quando rimani presente al tuo senso di essere senza fare assolutamente nulla dopo avermi ascoltato devi capire a fondo che non bisogna fare niente come conoscenza io sono non indescrivibile tu non hai forma né sembianza quindi non puoi fare nulla perché le cose semplicemente accadono e dunque ti accadono questa idea sbagliata io sono il corpo questa identificazione può essere paragonata alla spina in un piede per liberarti da questa idea falsa io ti do altri concetti che sono come un ago con il quale puoi estrarti la spina dal piede ma se poi al posto della spina tu nel tuo piede ci lasci l'ago cosa avrai guadagnato appena i miei concetti avranno svolto il loro compito te ne dovrai immediatamente liberare buttali via buttali via buttavia con la spina anche l'ago l'uomo ignora da dove proviene da dove ha avuto inizio ma su questa ignoranza costruisce tutta la sua comprensione del mondo è una conoscenza sempre più complessa per scoprire la verità non devi cercare nella direzione della filosofia non devi neanche cercare nella direzione della religione devi andare esattamente nella direzione opposta devi ritornare alle origini devi ritornare al principio devi accerchiare questa ignoranza iniziale su cui è stato costruito tutto il resto devi esplorare che cosa può essere questa conoscenza negativa questa completa assenza di conoscenza quando lo avrai scoperto conoscerai tutto ma finché continuerai a rimanere nell'ignoranza della base stessa da cui provieni e che ti sostiene è evidente che tutto quello che dirai di dio sarà falso ma quando hai capito la tua base le origini la sorgente indescrivibile del io sono in quel momento tu sei dio ma tu puoi osservare che è possibile questo tipo di consapevolezza solo attraverso la coscienza tu non puoi osservare che attraverso la coscienza ma devi andare ancora più dietro devi indietreggiare fino alla sorgente è lì che potrai osservare come semplice testimone lo svolgersi degli avvenimenti nell'ambito della coscienza tutte le cose che accadono tu non sei assolutamente nulla finché sei un uomo identificato con il corpo l'unica strada possibile è essere coscienza la cui apparizione e durata sono legate al corpo e alla forza vitale è possibile rimanere presenti alla sorgente e essere il testimone anche durante il corso della tua vita quotidiana della tua attività professionale trovare il proprio centro nella coscienza e da lì essere testimone questo è possibile credimi anche durante il lavoro intellettuale perché la coscienza può osservare quando la mente si muove quindi può osservare tutto il livello mentale in azione qualunque cosa accada solo l'io sono può sapere e capire bisogna rifiutare qualsiasi identificazioni con il corpo quando sai che la coscienza è alla base di tutto quello che esiste di cos'altro hai bisogno tu sei continuamente il testimone della tua personalità ma non te ne accorgi sei identificato con il corpo e sei identificato di conseguenza anche con le percezioni del mondo e questa non è altro che una distorsione una interpretazione da parte della coscienza quando capisci che non puoi morire fa pure quello che vuoi va dove ti pare non ha più alcuna importanza la stabilità ricorda esiste solo nel senza forma nel momento in cui entra in gioco una sembianza un colore la mente immediatamente viene sollicitata e si limita nella vita sociale è questo che si pretende cambiamenti situazioni diverse fare movimento tutto questo non è altro che un gioco un passatempo la coscienza è in tutte queste cose puoi percepirla in tutti gli oggetti perché lei che li fa sussistere è la coscienza che mantiene gli oggetti in esistenza senza la coscienza per te questi oggetti non esisterebbero e così la coscienza vive in ogni forma si esprime attraverso la totalità delle forme ma la coscienza è una è facile smettere di identificarsi con il corpo comincia a osservarlo osserva il corpo osserva la forza vitale del respiro se puoi osservarli significa che tu sei altro tu ne sei distinto esattamente come in un secondo momento quando osserverai la coscienza sarai al di là della coscienza ma da principio si una sola cosa con la coscienza tu non puoi in alcun modo confonderti con questa finzione con questa grande illusione che è il corpo dimorare stabilmente nella coscienza porta in sé l'illusione spontanea a tutto ciò che è fisico e materiale insisto su questo punto si tratta di una rinuncia spontanea accade sopravviene per conto suo tutti voi credete alla vostra vita individuale ma questa è un'illusione eppure ci credete ma non vi accorgete che quello che voi dite essere vero cambia cambia continuamente può indicarmi una cosa che rimane costante può indicarmi una sola cosa che rimane costante tutto cambia solo il senso di essere esiste ma voi non riuscite a rendervene conto perché anche tutti i vostri punti di vista cambiano tutti i vostri punti di paragone si trasformano solo l'io sono qualunque cosa facciate resta necessariamente al suo posto perché identico a se stesso l'io sono è l'anima di tutto l'universo è in un piccolo verme è nel cielo nell'uomo dappertutto tutto ripete io sono è il principio dinamico che ci sforza ci si sforza di uccidere limitandolo a un corpo ma questo principio è in realtà immortale le persone che vengono a trovarmi possiedono già molte conoscenze sono tutte quelle conoscenze acquisite che li condizionano e si aspettano che io esponga le mie valutazioni su di queste conoscenze ma come potrei ormai queste persone sono completamente imbalzamate nell'ignoranza in quella che loro credono essere la conoscenza e allora che si arrangino un uomo morto non può interferire nelle faccende di un vivo in modo del tutto simile chi ha capito che cosa è l'essere e come funziona non si interessa a quello che accade nel campo dell'osservazione dell'essere semplicemente si limita ad osservare qui noi stiamo parlando di una coscienza che trascende l'essere ma al mondo chi c'è che si interessa sul serio a una conoscenza così profonda è un gran privilegio che tu sia disposto ad ascoltare questi discorsi molti non si preoccuperebbero minimamente di ascoltarli anche avendone la possibilità allontanati dal chiacchiericcio butta via tutte queste chiacchiere queste idee queste parole dopo tutto cos'è la mente rumore la mente non è altro che il rumore che ti porti dentro appena ti alzi la mattina inizia ad attivarsi questo chiacchierare questo chiacchierare questo chiacchierare che va avanti incessantemente tutto il giorno senza sosta questa è la tua mente e tu gli corri continuamente dietro i rituali del culto quelle luci tremolanti di te arati o anche il canto di le ripetizioni di mantra sono molto utili per tenere destra la nostra devozione verso dio impedendo di cadere nella insensibilità arati cosa significa arati significa bisogno particolare e cos'è questo bisogno particolare è l'amore che ogni animale nutre per se stesso ogni animale ama essere ed è proprio questo amore che lo spinge ad agire nel mondo questo amare essere costituisce la natura innata di ogni specie animale poiché ogni specie si identifica con il genere a cui appartiene affiora l'idea della diversità e proprio questa diversità è la causa fondamentale del piacere e del dolore amare essere significa amore di sé in altri termini amare essere significa egoismo siccome ogni essere umano si considera un individuo passa attraverso il piacere e il dolore solo nella coscienza di essere non c'è alcun problema di felicità o infelicità che rappresentano esperienze fattibili solo a livello fisico e mentale io ho trasceso questo stato fisico mentale lo stato legato alla persona ti sto parlando dalla coscienza che si manifesta dinamicamente io non ho più nulla a che fare con l'idea che quello che accadrà sarà qualcosa di buono o di cattivo e non ho più nemmeno alcuna idea a proposito della nascita e della morte fisicamente sono molto molto debole in una condizione simile qualsiasi persona non avrebbe neanche la forza di alzarsi in me non esiste più la minima traccia di orgoglio per qualcosa che mi appartenga questo è il mio stato è il mio nirvana non c'è più nulla in cui mi identifichi tu porti avanti tutte le tue attività mondane o spirituali perché possiedi un'identità e finché ci sarà questo senso della individualità finché ti identificherai con il corpo e avrai questo senso di separazione dal tutto avrai a che fare con il piacere e con il dolore con il passato e con il futuro con la nascita e con la morte e così via anche la tua ricerca della spiritualità parte da una posizione limitata e condizionata quindi non puoi procurarti nessun vero punto di appoggio a qualunque cosa ti dedichi mantieni un punto di vista personale non sei una coscienza che si manifesta dinamicamente ma il fatto che tu sei è in realtà evidente e permea tutte le cose è più puro è più sottile di questa luce e quindi possiede la conoscenza della luce poiché tu continui a rimanere ancorato alla tua memoria ai ricordi ma la tua memoria è qualcosa di personale e ancorandoti alla memoria aggrappandoti a questi ricordi non sei in grado di assimilare questa conoscenza la coscienza di essere e così giri ti muovi in continuazione non trovi pace ci sono un'infinità di atai oggi così come ci sono persone che ripetono i vari nomi sacri con il giapa o praticano austere discipline molti di loro apparentemente percorrono un sentiero spirituale ma in realtà si accontentano di acquisire le siddi i poteri spirituali vogliono fare miracoli ma questo impedisce di progredire nella vera conoscenza spirituale loro si vantano delle loro pratiche si vantano dei loro poteri spirituali della loro personalità ma tutto questo non ha nulla a che fare con la conoscenza spirituale una persona di servizio o si accontenta del suo misero stipendio oppure cambia lavoro analogamente un saggio o si accontenta dei tre stati di veglia sonno sonno profondo e di presenza oppure li abbandona ti sto raccontando la mia storia di saggio a che mi serve questo continuo alternarsi della veglia e del sonno profondo io non lo voglio questo universo è percepibile ed è illimitato e infinito perché continuare a mantenerlo che ci guadagno a mantenerlo un saggio che ha scoperto la propria realtà è fisso nella perfezione stabile e non ha bisogno di desiderare qualcosa di ottenere qualcosa comunque una persona impegnata nella ricerca spirituale otterrà un'infinità di benefici anche soltanto ricordandosi di un saggio se porti la mente a un saggio se penserai costantemente a un saggio e riflettendo sul suo comportamento sulla sua vita riceverai molti benefici perché è molto grande la potenzialità di un essere simile una persona comune non può avere la minima idea né il più vago sentore di quello che significa lo stato assoluto di un saggio deve accontentarsi di osservare il suo comportamento le sue manifestazioni fisiche perché queste sono espressioni del suo essere ad esempio un ufficiale dell'esercito indossa una divisa sulla quale porta dei distintivi che indicano il suo grado per questo tu riconosci che quello è un ufficiale ma lui non è la sua divisa lui non è i suoi distintivi allo stesso modo il tuo corpo che è un involucro di cibo non sei tu ma tu essenzialmente sei quel principio insito nel corpo che si riconosce come io sono tu non sei capace di smettere di identificarti con il tuo corpo e questa è la grande illusione da qui nascono tutti i problemi da maya la grande illusione ed è per questo che non riesci ad assimilare quello che dico devi meditare meditare di più meditare profondamente se vuoi renderti conto di cosa significa io sono quello il tuo stato manifesto deve dissolversi nel non manifesto è questo il suo significato fondamentale qualunque esperienza io faccia di dio del mondo questa esperienza non dipende dalla benevolenza di dio da un suo obbligo nei miei confronti ma dipende interamente da me e dallo stato in cui mi trovo se io non ci fossi non potrei fare alcuna esperienza io sono sempre stato e sono sempre al di là di tutto a causa del mio essere sperimento il mondo ora vedo chiaramente che sono un'unica cosa con gli insegnamenti di veggenti come shankara come madava come ramanuja ogni creazione ma dall'illusione originale dal suo sommesso mormorio tutte le parole discorsi titoli onorifici si riferiscono sempre a queste emanazioni e quando ci sono delle immagini delle parole c'è sempre qualcuno che parla che chiacchiere che si esprime in questo modo quando due persone si incontrano e parlano d'amore usano delle immagini lo stato dell'essere viene definito come dio dio è la totalità della manifestazione è il mio stato in cui avviene la sperimentazione e comporta la dualità ma il mio stato non manifesto non è duale e in quello stato non esistono esperienza non esiste una manifestazione io l'assoluto non sono l'essere nonostante tutta la vostra conoscenza spirituale voi non siete disposti a abbandonare le vostre esperienze che si producono a livello del corpo e della mente ma se non vi identificaste con le vostre sensazioni fisiche psichiche se foste disposti a trascenderle nell'essere e poi passereste anche oltre l'essere comunque quello che voi vorreste sperimentare sia l'essere che non essere pur mantenendo la vostra individualità a livello fisico mentale ma questo è assurdo questo è impossibile io l'assoluto sono il testimone del mio essere che è la totalità della manifestazione all'essere sono state attribuite le qualità più sublimi è stato chiamato dio e molta gente lo ha adorato e a questa gente un discorso come quello che sto facendo può sembrare osservi offensivo io l'assoluto non sono l'io personale l'io personale non può supportare di essere impersonale a paura della morte l'io reale eterno non ha paura della morte tu l'assoluto non sei il tu personale ma per tutto il giorno quella individualità viene difesa da te viene protetta e così custodisci quello che non sei in realtà io non ho paura del tempo perché non può toccarmi nemmeno la distruzione dell'intero universo manifesto prima durante dopo questa distruzione io l'assoluto rimarrò sempre intatto incorrotto ed immutato